Scegliano che trasmissione devo parlare, se non fosse che c'è stato suo cavolo terribile ti giuro avrei fatto quattro puntate invece di due a Scegliano, perché abbiamo trovato persone che ci hanno davvero riservato un'accoglienza particolare, un paese vivo, il che non è facile di questi tempi trovare un paese vivo sinceramente, perché tu arrivi in molti paesi, anche perché questi paesi non proprio si stanno spopolando tutti, però devo dire che oggi a Scegliano abbiamo trovato un paese molto vivo, ci hanno fatto incontrare delle persone straordinarie, gli anziani che noi andiamo ad intervistare perché avendo come scopo principale quello della rivalutazione, di far conoscere i dialetti delle nostre cinque province, ci hanno fatto intervistare delle persone anziane davvero spettacolari a dire poco, poi nei nostri borghi si mangia dappertutto bene, anche a Scegliano abbiamo fatto la parte nostra, non solo con le telecamere, anzi soprattutto a telecamere spente abbiamo fatto la parte, si vede, si vede, sono un po' compio, si vede, si vede, vabbè facciamo fidare di niente, e quindi niente, siamo venuti a conoscere il dialetto di Scegliano, devo ringraziare il sindaco Raffaele Pan, un pezzo di pane voglio, un pezzo di pane, ma non c'è così c'è tutto tutto, per l'accoglienza e per tutto quello che ci hanno riservato ed organizzato in occasione il nostro arrivo qua con le telecamere di Padriamo Cicchiare, e niente, guardatelo in televisione, a proposito ne approfitto, grazie a Liberi TV per invitarvi a seguirci alle 14 come prima messa in onda e alle 20 e 30 come replica da lunedì a sabato, poi ne approfitto per gli amici che sono fuori, che seguono la vostra TV, il vostro sito, il vostro portale, che in tutto il mondo ci possono seguire su www.videocalabria.tv e mochi buccio.